finalmente sistema rispetto a questa emergenza che è enorme e che, ripeto, non fa dormire migliaia di padri, di famiglie che poi sono commercianti, poi sono imprenditori, poi sono artigiani e credo che questa vostra trasmissione possa cominciare ad avviare una riflessione seria su un problema molto serio. La situazione invece per quanto riguarda il comparto dell'industria è leggermente diversa, non è così, d'amico? Sì, rispondo subito alla domanda. Mi diceva che la maggior parte delle imprese... No, come l'errore di imprese, devo dire, purtroppo forse le poche imprese, anche se qualificate imprese che stanno presenti in industria, quindi parliamo di industria come confindustria, che stanno presenti sul territorio, diciamo che tranne tre, di cui non faccio nomi, che hanno avuto problemi veri, reali di istruzione, per cui ne sono impossibilitate a riprendere i lavori, a riprendere il lavoro finché non verranno sistemati, insomma ho trovato i nuovi locali, sono ripartite tutte, sia da parte imprenditore, sia da parte lavoratore, ci vengo a dirlo, c'è stato un grande sforzo per ripartire, le imprese sono ripartite anche con grossi danni, sono ripartite in giro di 15 giorni, con tasso di assente di Sbozzero, quindi una grande... questo ricordo, insomma, il primo giorno dopo il terremoto è stato un grande fatto positivo, insomma, da fiducia e speranza, cosa che non mi dà l'avvio di questa trasmissione, dalle cose che ho sentito, perché da quello che emerge, l'aria franca, io la chiamo aria franca, non la chiamo zona franca, cercherò di spiegare il perché, e aria franca, devo dire sinceramente, come Confindustria, noi un documento che abbiamo prodotto due o tre giorni dopo, abbiamo paragonato l'Aquila, la Berlino del dopoguerra, abbiamo rivendicato la necessità di un'aria franca che andava molto oltre la cosiddetta zona franca urbana, che è lo strumento codificato già dalla comunità europea e che prevede i parametri dei... ma no, no, ma lui ha il perfetto conoscenza, che ha dei parametri ben precisi, cioè appunto i 30.000 abitanti e la decontribuzione limitata alle micro imprese sostanzialmente, quindi strumento che ben venga, sia chiaro se deve venire, spero che... ma non è risolutore? però non è risolutore, noi parliamo di un'aria franca che era molto... non è neanche poco? non è neanche poco, però, attenzione, però noi parlavamo di un'area franca che è a fronte, che non è neanche poco, però noi parlavamo di un'area franca che è a fronte di un evento eccezionale, ripeto, Berlino dopo guerra, l'Aquila non è molto diversa, anche per la sua sofferenza pre-terremoto, deve essere strumento eccezionale che fossero rivolti a ridare, come dicevi tu, attrattività al territorio, non solo per le micro imprese e per rimettere i cittadini commerciali, cioè volando un po' più alto, ridare attrattività al sistema imprenditoriale, cioè di imprese, quindi anche medie e grandi che vogliono finire da fuori e non scordiamoci, l'attrattività per i lavoratori, quindi di contribuzione, di fiscalizzazione anche per i lavoratori, perché oggi noi abbiamo un grosso problema che è anche lo spopolamento, quindi dobbiamo ridare attrattività. Io adesso sto andando veloce per giungere alla mia, come dire, un po' disillusione, perché il sentire cieco, le prime battute fanno pensare a una classe politica che a distanza di cinque mesi, prima stiamo a parlare, a questa trasmissione che avvia una riflessione, Dio buono, insomma è triste pensare che dopo cinque mesi si comincia ad avviare una riflessione. Io credo che debba essere data immediatamente una risposta, se no rischiamo di non comprendere assolutamente di che cosa stiamo parlando, tanto per essere chiari. Per aggiungere un elemento, qualche giorno fa la Cisla ha diramato un comunicato dicendo che per rinascere l'Aquila ha bisogno della zona franca, secondo i sindacati. Scusa, posso chiudere? Lascio una frase in sospesa, quando dicevo, io sinceramente probabilmente sto notando per vari motivi, poi in caso la approfondiamo, che probabilmente non esiste una classe politica che è in grado di imporre, Aquilana, che è in grado di imporre alcune scelte. Questo mi preoccupa molto, cioè dire Samoscetti come...